Un tour per le strutture sanitarie di Pesaro con l'obiettivo di fare il punto assieme ad Asur e l'azienda ospedaliera Marche Nord sulla gestione del Covid-19. Missione compiuta per il sindaco Matteo Ricci che questa mattina appena uscito dall'ospedale San Salvatore ha parlato di situazione sotto controllo, invitando tutti allo stesso tempo a non abbassare la guardia anche in vista dei casi che stanno crescendo sebbene la provincia di Pesaro Urbino registri ad oggi un minor numero di contagi rispetto al resto delle Marche. Ricci ha voluto poi ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo e ha promesso che tornerà periodicamente a far visita all'ospedale San Salvatore e alle strutture sanitarie del territorio. Ho voluto fare il punto con le strutture sanitarie, l'Asur e l'azienda ospedaliera perché siamo dentro una fase critica e quindi è importante il contatto tra il sindaco e coloro che tutti i giorni si occupano di sanità nel nostro territorio. La situazione è sotto controllo però comincia a essere sotto stress soprattutto sui ricoveri all'ospedale e quindi dobbiamo organizzarci sapendo che dovremo convivere con il virus per mesi, che avremo dei mesi, io l'ho detto a Fisarmonica, nei quali avremo graduali chiusure, graduali riaperture in base all'indice di contagio. La nostra situazione è migliore rispetto al resto delle Marche ma comunque i casi stanno crescendo anche da noi, quindi la guardia è massima, abbiamo bisogno di medici, medici soprattutto all'ospedale, abbiamo bisogno di rafforzare le uschia che vadano dentro le case dei cittadini e per il resto appunto la situazione l'ho trovata abbastanza sotto controllo ma ovviamente c'è la tensione per ciò che potrebbe accadere e soprattutto c'è anche un impatto psicologico anche sul mondo sanitario difficile perché hanno vissuto mesi davvero drammatici e quindi bisogna stare molto vicino ai nostri medici, ai nostri infermieri e dobbiamo continuare a dare a loro la massima solidarietà, la massima vicinanza come abbiamo fatto in passato. Non siamo nel dramma primaverile, siamo in una situazione migliore però davvero l'allerta deve essere massima e soprattutto dobbiamo essere collaborativi nei prossimi mesi e dobbiamo essere anche molto pazienti, solidali, pazienti, equilibrati ma grande attenzione da parte di tutti e grande sostegno al mondo sanitario. Periodicamente rivisiterò ospedale e strutture sanitarie proprio perché con loro è importante fare il punto periodicamente e a maggior ragione in questo autunno-inverno così delicato.